Buongiorno da BTV News. Oggi, 9 agosto, è Santa Teresa Benedetta della Croce. Con la risoluzione del 23 dicembre 1994, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che il 9 agosto di ogni anno sia la giornata internazionale dei popoli indigeni del mondo. La data segna il giorno della prima riunione nel 1982 nel gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene della sottocommissione per la promozione e la protezione dei diritti umani dell'ONU. Nel 1990 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 1993 anno internazionale dei popoli indigeni del mondo. Ogni anno l'UNESCO celebra la giornata e si tratta come occasione per valorizzare questa comunità e diffonderne la loro conoscenza, condividendo informazioni su progetti e attività rilevanti per il tema attuale. Grazie 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 Grazie